benvenuti in questo secondo episodio del gg tv show oggi luigi intervisterà un altro caratterista del genere cinematografico commedia sexy all'italiana ovvero lucio montanaro che racconterà i ruoli più iconici che interpretato una visione benvenuti al secondo episodio del gg tv show e come secondo episodio ho un grandissimo ospite un'icona e grazie di essere mio ospite lucio montanaro ma io ringrazio voi con veramente con un cuore immenso per l'amor di lì per così poco queste sono cose indubbiamente che gratificano la persona che viene interpellata grazie per me è un onore lo sai ricordati che lo hai detto poco fa e io si mi ricordo un particolare quando feci mangiare le patate a quinto intervento infatti il più grande regista del mondo si fattura mangiata insieme insomma proprio la vecchia nucellina e patate e patate allora lucio partiamo con la prima domanda come è nato lucio montanaro e a che età hai cominciato a fare film ma questa è una tutta che invece un mio grande amico dice ma chi mi ha scoperto stavi sotto un sasso ma quale sasso niente allora io sono di martina franca una bellissima città forse è una delle perle nella puglia beh io non ci sono mai stato però ci vorrei stare ti dico se poi sarai sempre un granito ospite grazie venne nel 1972 quando io finivo la maturità classica venne a girare martina franca vittorio caprioni vittorio caprioni che scelse martina proprio come lo che si no la loro location sarebbe stata la grecia perché più o meno simile a martina franca tutta bianca di calce e rimasero furonata e da lì io ho fatto nella vita quello che effettivamente ti piaceva fare mi piaceva fare io se non sbaglio qualche altra intervista hai detto pure che tu comunque cominciato facendo anche le recite scolastiche soprattutto nasco con lo spettacolo nasco con lo spettacolo reciti a scuola barzellette nella villa tra gli amici e via di seguito amavo molto lo spettacolo e io avevo deciso da piccolo che da tanti avrei dato l'avvocato infatti mi scrisse l'uso oppure continuare a cercare di entrare nel cinema come inevitabile effettivamente sono stato io sono contento che è andata così perché hai trovato tante emozioni e tante risate specialmente a noi no ma perché sai che succede molti amici miei che da piccoli da giovani dicono io voglio fare un medico io voglio fare l'avvocato un altro a me piace l'ingegneria ma figlio dove sono andato a finire un'entrata nella SIP nei telefoni un altro fece il geometra cioè cambiano tutti però essere riusciti cioè a fare nella vita quello che tu eri prefisso secondo me resterà comunque un privilegio di voi andiamo con la seconda domanda il tuo film preferito che hai fatto ma a tutti non esiste uno sono stati film dal primo all'ultimo e hanno avuto tutti un grande successo infatti lo so ti conosco quasi tutti i tuoi film e sono tutti di successo non c'è ricchezza migliore e gratificazione quando ti ferma un amico una persona dice noi siamo cresciuti contenti ma con me proprio non credo perché io prima mangiavo molto e a molti dissi se io avessi dovuto darti delle cose da mangiare tu saresti stato proprio una ciuga perché mi sarei mangiato tutto io allora andiamo con la terza domanda il tuo ultimo film risale al 2008 l'allenatore nel pallone 2 colino 4 dove interpretati peppino il cameriere in una piccola parte dove reciti con viaggio vizzo poi se non sbaglio si scomparse un po' dalle scelte come mai tutti noi da fan vogliamo un tuo ritorno sul grande schermo facci sapere da parte mia c'è a parte che fanno delle fiction per la Rai ma tu non hai dimenticato un film mio che non è uscito che non risale al 2008 ma risale al 2013 davvero? la cornice la cornice io sono protagonista insieme a Maria Cucinotta Maria Grazia Cucinotta e l'altro eravamo noi i protagonisti girato in Marocco in Marocco? non lo sappiamo questo infatti si dicevo su Wikipedia la cornice te lo vai a trovare sì e l'altro l'interpretro maschile era un bravissimo attore che ha fatto anche una fiction sui carabinieri Iris ed era belloccio era si chiama farmi ricordare come si chiama oh appena mi ricordo te lo dirò ok va bene te lo ricordalo Lorenzo Flyer noi tre si chiama La Cordice è un film che l'ultima volta che io ebbe il piacere di sentirmi con Maria Grazia Cucinotta che chiamo La Cuginetta sì Maria Grazia Cucinotta La Cuginetta che le è stata diverse volte a Martina Tracca e dicono in questo film hanno perso le tracce il produttore marocchino e quando andavamo lì Luigi ti voglio dire una cosa per la quale nutro una particolare gratificazione io e io mi blindarono perché lì siamo io bambi al baro vitale siamo proprio popolari le magliette nostre le vengono sulle carrette bellissimo non uscire non uscire che cazzo è più da me la mattina è un caldo da morire c'erano cinquanta gradi la mattina lì cinquanta gradi la sera un cappotto ma non sì perché naturalmente là è tipo come il deserto la mattina fa caldo la sera fa un freddo enorme andiamo con la quarta domanda tu hai recitato con i migliori attori del genere commedia sexy all'italiana e no da Renzo Montagnani a Lino Banti da Mario Mero a Mannino D'Angelo qual è l'attore che hai stretto un legame? con tutti ho sempre avuto un legame con tutti cioè secondo me Luigino se ti comporti bene con tutti e hai il rispetto di tutti questo rispetto ti viene corrisposto e non vieni mai dimenticato giusto è una parola che porterò a vita io credo io credo che siano delle parole molto molto fucile io dico che tutti sono stati bravi per esempio io ho avuto il piacere di conoscere Monica Vitti per una sola volta e poi ho recitato nella presidentessa con una grande attrice purtroppo scombassa che era Maria Angelo Amelato Maria Angelo Amelato grandissima attrice che tutti ricordiamo anche che ha recitato con Giancarlo Gianni e ha fatto travolti da un insolito destino è l'azzurro Maria Maria Fausto poi un'altra cosa che ti voglio io segnare c'è sempre quell'attore presuntuoso che vuol dimostrare di essere superiore agli altri che scavalca un poco vuol primeggiare lui lo troverai sempre nella vita una questione di carattere in questioni di carattere alla fine chi vince sempre in tutte le situazioni è la mobilità e la semplicità la semplicità giusto sono... non ti facevo così poi ti dico la verità quelle parole qui c'è andiamo con la quinta domanda se dovresti tornare al grande schermo in quale ruolo ti vedresti interpretare e con quale attore vorresti recitare in coppia? tutti tutti non c'hai uno in particolare non è Robert De Niro un albassino no non ce l'ho perché loro restano sempre loro anche se loro ci amano tantissimo perché Robert De Niro che quando dicono la grandezza di questi uomini sapete dove dipende non è la scuola che hanno fatto è il dollaro che si sono trovati perché c'è l'America in mezzo e allora è tutto promozionato se uno prende un milione in Italia in America prende 50 milioni esatto perché l'anno nemmeno è questa ma loro amano molto noi cioè De Niro ha una grande scuola indubbiamente e loro hanno sempre detto che la migliore scuola non solo l'hanno detto loro ma me l'hanno detto tante persone è il dono della natura il dono della natura la naturalezza molti mi chiedono che si fa per fare un cibo devi avere una faccia da ridere per non dire una faccia da ridere ma il dono di Dio è la naturalezza è vero tanti attori comunque sono usciti diciamo tra virgolette dalla strada comunque c'era pure Vittorio De Sica che prendeva attori dalla strada il neorealismo italiano certo certo esatto basta vedere questo Alberto Sorghi non ha mai avuto una scuola ma era un grande Totò erano tutti naturali ed è secondo me il dono più bello il dono più bello che c'è il signore di potere esatto andiamo con la sesta domanda mig questa la sento difficile la senti difficile? no ma tutte cose belle un ricordo particolare di due grandi che hai lavorato insieme parlo di Renzo Montagnani e Mario Mero ma che ricorda hai di loro? magnifico erano tutti e due due grandi maestri due grandissimi amici che non davano importanza sulla scena Mario è stato il più bravo senza togliere bravissimi tutti e due uno per un genere e uno per un altro Mero ma ti insegnava a camminare sul palcoscenico bellissimo ti insegnava perché non è neanche facile quante cose ho fatto con lui e lui a un certo punto spariva la scena e gli disse dove cazzo stai? oh rimasi solo io sulla scena del teatro e gli dice perché dovevano da ridere? eh ricordi bene è un'emozione comunque pensare che sei stato indiretti tu hai conosciuto tutti e per cui anche tu sei un grande e ora con professore stiamo cominciando il mio secondo libro che si intitola Lucio Montanaro racconta Merola bellissimo e tutte le cose sue si andrò in America abbiamo l'editore e via di sempre sempre scritto con l'aiuto di Giuseppe del Curato del Curato esatto andiamo con la settima domanda una delle più importanti secondo me parliamo del tuo libro da poco hai scritto un libro la tua autobiografia scritta da Giuseppe del Curato certo che emozione hai provato a scrivere un libro sulla tua vita? lo ritieni un grande traguardo? non lo ritengo un grande traguardo sai perché? perché il titolo quando mi venne dal cuore io purtroppo ti dirò non ho mai sapere del libro ho perso una bimba all'età di dici anni una figlia mia non lo sapevo questo è bellissimo è bellissimo e lo so a chi non può dispiacere una cosa del genere e lei mi illuminò fu lei quando mi diede l'input di trovare il titolo di questo libro ed è proprio per questo è bello così a mio avviso è molto interessante oggi non lo capisco ma più tempo passa più riesco a capirlo il meglio della vita mia ma sinceramente non ricordo tutto che tu hai preso eccolo qui questo lo aggiungerò alla mia collezione eccolo qui è ovvio è ovvio questo è ovvio arriverà un giorno che passerò la cerignola non è facile perché si rischia di essere sparati però è bello ma a noi non ce lo fanno la cosa del genere no cerignola è un bel paese ma non ho dubbio ovunque stanno le persone per bene e le persone ovunque sì questo è giusto è una cosa giustissima cioè le persone il bene e il male c'è ovunque pure nel paese più tranquillo certo allora andiamo con la ottava domanda parliamo di una delle tue scene più divertenti che hai girato nel film Popcorn e patatine con il grande Nino D'Angelo parlo della scena che dici con la specie di poesia Beatrice senti Beatrice dimmi è una cosa importante sì io son sicuro che sì io son sicuro che se tu mi proverai mai più mi lascerai mi hai proprio stufato stufato quando hai girato con la scena sei caduto davvero in acqua cosa ricordi di quella fantastica scena? niente la più bella battuta fu quella di Maria Vaoletti in pagina dove riposa il regista di quel film quando sali su tutto perché mi portai sulla barca mi seducio bellissima la prova era buona ora la rifacciavano tanto morto la rifacciavano tutto bagnata fu una scena perché c'erano fu fatta da tre telecamere telecamere sotto una sotto al bordo con il sub e una dietro al motore che mi seguirono tutti durante la caduta mamma mia un film molto bello molto bello oggi si parla si parla andiamo con la nuona domanda la penultima lucio la penultima questo è bello un altro film di cui vogliamo parlare almeno ti parlo dei miei preferiti è dell'insegnante viene a casa lì hai un ruolo piccolo interpreti Roberto Marullo il figlio del colonnello Marullo cosa ricordi quando avrei girato quel film? non è tanto figlio ma ricordo tutto ricordo l'incontro con Barfi l'incontro con Edwin Schfenek Edwin Schfenek che era figlio di un colonnello esatto che c'è quella scena con Renzo Montagnano e lui ogni volta con i fiori voi prendevate i fiori e lui non doveva ritornare indietro al fioraio ok bellissimo quello è uno dei miei preferiti anche se però vedi ma ce ne sono dei più belli ma sono da te sì 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 esatto che abbiamo qui ecco un altro DVD che rifernerà pensa Luigino che quel film c'ha 50 anni ed è sempre attuale è vero quanto facevamo il servizio militare il vino che cade sulla tavola comincia a bollire la volta che dici c'era davvero l'acido dei servizi dei militari che cosa vuoi che si possa fare? allora Lucio siamo arrivati all'ultima domanda ultima domanda è una delle più importanti secondo me e ritorno a parlare del tuo libro certo pensi che per i giovani di oggi può essere un bel esempio di vita e di eredità? penso che sì ma non dimenticare mai che la popolazione si divide in due categorie fessi e intelligenti esatto io mi auguro di incontrare sempre le persone intelligenti e finora le ho sempre incontrate se uno vuole bene a me io voglio bene il bene diventa un boomerang cioè quanto una persona si interessa di te in una maniera incommiabile perché non corrispondere le stesse cose che si comporta male mi hai dato un esempio non vorrei fare il nome di persone alle quali tu hai chiesto un'intervista e hai risposto ma che me ne frega me esatto una cosa del genere non lo avrebbe fatto neanche Steven Spielberg stati tranquilli grazie vedi la pochezza del genere umano ok? non è una malattia che io attribuisco a queste persone sono tanti malati in questa maniera e siamo arrivati al termine Lucio grazie di aver preso parte di questo mio secondo episodio e di questo mio progetto ora non ho proprio nulla da dire certo mi hai fatto molto piacere ho accettato ora è arrivata una bella cosa di autografarmi la mia collezione di dischi preferiti che ho è il libro ok? certo purtroppo Luigi come al solito ha dimenticato di portare un'altra micro SD per la registrazione ma ha ben pensato di finire l'intervista con un Nokia 3310 il solito Luigi ecco ragazzi purtroppo abbiamo finito la memoria alla telecamera e mi sta autografando il suo fantastico libro Lucio facciamo un ultimo saluto al Gigi TV Show e al prossimo episodio ciao ciao a tutti